Adesso faremo un esperimento sociale per dimostrarvi quanto al modo di vestire di una persona che imparare osservare comunicare anche se sappiamo bene che non potrà farci male associamo comunque quella frase a un foro allora com'è andata siete riusciti a risolvere tutti i quesiti sta diventando la tua e il dottore ci dice non ti preoccupare non ti ferà male e invece la puntura ci per risolvere problemi come questo è un esempio di quello che è Raymond Cattel suono neutro è diventato per lui sinonimo di cibo Biu c'è tutte le soluzioni ve le daremo alla fine del video e mi raccomando spremete le meningi